buongiorno a tutti allora si sono disputate appunto le partite di nation league adesso per un mese ci gustiamo il campionato rientriamo in ottima campionato ci sono tantissime partite c'è anche la champions poi ahimè a metà novembre siamo da capo però volevo discutere un attimo e discutere volevo visto che non si discute sono qua da solo volevo parlarvi di com'è la situazione nei 16 gironi e nelle varie leghe partendo naturalmente dalla lega e i quattro gironi o gruppi della lega partendo dalla dal gruppo 1 che vede la francia prima a sette punti l'olanda seconda a tre punti e la germania fanalino di coda a questo punto c'è olanda francia e germania olanda ancora da giocare quindi sulla carta la germania può ancora riuscire a salvarsi se la francia non perde in olanda l'olanda se può ancora qualificarsi qualora battesse la francia e poi dopo andasse in germania con la germania ormai sicura di essere eliminata che magari lascia vincere l'olanda e l'olanda potrebbe andare a pari con la francia e a quel punto scatta la differenza degli scontri diretti quindi addirittura l'olanda potrebbe vincere il girone a meno che la francia non fa un buon pareggio con l'olanda a quel punto è la germania che ha una sola possibilità battere 4 a 0 l'olanda in casa ma la vedo abbastanza difficile per salvarsi naturalmente perché a quel punto l'olanda andrebbe a 4 la francia a 8 sarebbe irraggiungibile quindi è ancora aperto ma la francia è favorita nel gruppo 2 abbiamo il belgio e la svizzera a 6 punti e l'islanda ahimè a 0 il belgio però ha due partite da giocare la svizzera una sola quindi l'unica chance che ha la svizzera è sperare che l'islanda vada a vincere in belgio o comunque beh però c'è ancora tutta non è ancora tutto da giocare perché il belgio a 6 e la svizzera a 6 se il belgio parte l'islanda senza fare una goleada poi la svizzera qualora battesse il belgio anche solo una a 0 avrebbe magari la differenza reti a favore visto che ha più 6 contro il più 4 del belgio potrebbe addirittura qualificarsi quindi ancora tutto da decidere svizzera belgio deciderà le sorti del torneo l'islanda già salutato nel gruppo 3 quello dell'italia come ben sappiamo se l'italia batte il portogallo poi dovrà aspettare che di vedere cosa faranno portogallo e polonia quindi è tutto in divenire il portogallo naturalmente è favorito per passare il turno l'italia è già sicura del secondo posto di restare nel gruppo nella lega a però qualora battesse il portogallo e il portogallo non riuscisse a battere la polonia è ancora tutto da vedere gruppo 4 anche qui ancora tutto in divenire perché praticamente la spagna che sembrava ormai sicura di passare il turno perdendo in casa con l'inghilterra con lo stesso punteggio con cui aveva vinto in inghilterra cioè 3 a 2 ha riaperto tutti i giochi perché adesso croazia spagna diventa importantissima perché se la croazia dovesse battere la spagna a quel punto si rientrerebbe intanto in gioco portandosi a quattro punti e poi con l'inghilterra si giocherebbe il primo posto perché chi vince passa il turno chi perde va in serie b non è la lega b quindi anche il gruppo 4 è ancora tutto da decifrare e quindi saranno partite molto interessanti tra il 16 15 e il 20 di novembre veniamo alla lega b e il gruppo 1 dove l'ucraina è già qualificata perché ha 9 punti slovacchia ecco l'unica che potrebbe insidiaria poteva essere la slovacchia ma è a 0 quindi la slovacchia si gioca con l'ucraina stessa e con la repubblica cieca le possibilità di salvezza quindi è uno sconto fratricida per salvarsi mentre l'ucraina è già sicura del primo posto a 9 perché al massimo nessuna può raggiungerla perché la repubblica cieca ha solo una partita la slovacchia ne ha 2 ma a 0 l'ucraina è a 9 quindi ucraina è già qualificata al primo posto nella lega b invece il gruppo 2 russia a 7 turchia a 3 svezia ahimè a 1 però la svezia ha due partite da giocare quindi deve andare in turchia e pensare a salvarsi praticamente quindi se perde è in lega b se dovesse pareggiare si gioca comunque il secondo posto con in casa contro una russia che automaticamente è già qualificata mentre invece se addirittura dovesse vincere con la russia si giocherebbe il primo posto nel girone quindi ancora tutto anche questo in divenire dipende tutto da turchia svezia che il risultato verrà fuori per decidere poi il girone chi chi passa eccetera gruppo 3 bosnia zegovina a 9 austria 3 e irlanda del nord poverina già quasi eliminata le partite che mancano sono austria bosnia zegovina e irlanda del nord austria se l'austria le vince tutte e due potrebbe tranquillamente vincere lei il girone però deve vincere subito con la con la bosnia zegovina in casa e poi andare a vincere in irlanda del nord che magari le possibilità ci sono quindi anche questo un girone tutto in divenire anche se la bosnia nove punti basta che non perda in austria ed è sicura del primo posto col pareggio l'austria è sicura di non andare di non retrocedere nella lega b nella lega c scusate visto che sono già in b mentre l'irlanda del nord ormai temo che faccia ciao ciao gruppo 4 di lega b galles a 6 punti danimarca a 4 irlanda a 1 in questo girone praticamente c'è ancora da giocare galles danimarca che diventa basilare al galles potrebbe bastare no non potrebbe bastare un punto perché poi la danimarca giocherebbe in casa con la con la repubblica d'irlanda con ottime probabilità di vincere quindi il galles è obbligato a battere la danimarca per avere la certezza di passare il turno perché qualora pareggiasse la danimarca lo potrebbe sopravvanzare battendo l'irlanda quindi anche questo è un girone ancora tutto in gioco nel gruppo 1 della lega c perché adesso andiamo nella lega c la classifica è israele 6 scozia 3 albania 3 quindi il 17 novembre ci sarà veramente da ridere perché albania e scozia si giocano non solo la salvezza soprattutto l'albania visto che l'ultima partita ma soprattutto la possibilità di vincere ancora al girone perché poi dopo la scozia giocherebbe in casa con israele e qualora battesse l'albania si giocherebbe il primo posto con israele viceversa qualora perdesse con l'albania si giocherebbe la salvezza a meno che non la differenza reti del scontro diretto non lo condanni non la condanni quindi ancora questo ancora tutto in divenire naturalmente israele è favorito perché gli basta non perdere in scozia veniamo al gruppo 2 della lega c che ha di quattro squadre finlandia grecia ungheria ed estonia la finlandia è a 12 punti ma si deve giocare il tutto per tutto con ungheria e grecia per di più in trasferta tutte e due le partite poi l'estonia farà da tra virgolette ago della bilancia perché giocheranno sia l'ungheria che la grecia contro l'estonia entrambe in casa contro l'estonia quindi entrambe potrebbero fare tre punti con l'estonia che ahimè poverina è ultima in classifica un punto però ha bloccato l'ungheria nella nella partita che forse quello gli costerà caro all'ungheria quel pareggio ma poi giocando in casa dovrebbero vincere tutte e due a questo punto l'ungheria potrebbe andare a sette la grecia andrebbe a 9 e poi grecia finlandia diventa subito il 15 di novembre grecia finlandia ungheria e stonia conta relativamente perché comunque se la grecia non batte la finlandia allora sì ma tanto oramai serve a poco perché arrivare secondi o terzi nel girone cambia poco l'importante non arrivare ultimi e grecia ungheria ormai sono quasi sicure della salvezza però hanno ancora qualche sciansina almeno la grecia l'ungheria con quel pareggio no perché anche con due partite da giocare potrebbe arrivare solo a 10 l'unica è la grecia la grecia deve battere la finlandia e battere l'estonia e poi vedere gli scontri diretti come sono grecia e finlandia si giocano il primo posto lega c gruppo 3 norvegia e bulgaria si giocano il primo posto perché sono appaiate a nove punti entrambe hanno giocato tre partite le prossime sono di norvegia e bulgaria cipro bulgaria e slovenia norvegia poi cipro norvegia e bulgaria slovenia quindi tra di loro non si affrontano più l'ultima partita ha visto la vittoria 1 a 0 della norvegia sulla bulgaria quindi chi fa più punti in queste sfide con cipro e contro la slovenia sulla carta passa poi probabilmente fa fede o la differenza negli scontri diretti che temo che siano più o meno alla pari o la differenza reti che per il momento vede la norvegia a quattro gol fatti uno subito quindi più tre però la bulgaria cinque gol fatti e tre subiti e ha più due ma ha fatto un gol in più quindi attenzione vedremo perché qua è ancora tutto in divenire andiamo all'ultimo gruppo della lega c che vede la serbia a otto punti il montenegro a 7 la romania a 6 e la lituania a 0 le prossime partite sono romania lituania quindi la romania potrebbe andare a 9 poi c'è lo scontro diretto serbia e montenegro quindi si potrebbero rubare punti a vicenda su cui potrebbe usufruirne la romania che andando a 9 potrebbe andare vedersi la serbia a 11 però sopra avanzare il montenegro e poi ci sarà lo scontro diretto montenegro romania che potrebbe dare la risposta finale però attenzione perché se il montenegro dovesse andare a vincere in serbia cosa difficile ma non si sa mai a quel punto sarebbe lui favorito perché andrebbe a 10 e poi avrebbe in casa la lituania che a 0 e la squadra materasso del tra virgolette del gruppo 4 e potrebbe addirittura vincere il girone o anche solo pareggiando perché poi dopo c'è montenegro romania in cui si scannano tra di loro è ancora tutto in divenire sono tutte in gioco tutte e tre in gioco per arrivare al primo posto e andiamo alla lega di quella più scalcinata tra virgolette partendo dal gruppo 1 che vede la giorgia già qualificata a 12 punti kazakhistan 5 lettonia 2 andorra 2 quindi qua è tutta una questione di salvezza le altre le prossime partite saranno kazakhistan lettonia andorra giorgia andorra lettonia e giorgia kazakhistan quindi il povero kazakhistan deve giocare mentre se andorra che kazakhistan hanno da sfidare la lettonia una e la giorgia l'altra non si affrontano più ma devono c'è un giorgia kazakhistan ecco giorgia kazakhistan potrebbe decidere tra virgolette tutto visto che il kazakhistan a sto punto potrebbe non avere più nulla da chiedere al girone avendo magari già battuto la lettonia ed essendo andato a 8 per dire però dopo andorra e lettonia si sa devono lottare per la salvezza quindi diciamo che questo nel miga di gruppo 1 devono pensare a salvarsi andorra e lettonia sulla carta però il kazakhistan è a 5 loro sono a 2 ci sono tutti gli scontri diretti tutto può succedere però sulla carta andorra o lettonia dovrebbero finire male tra virgolette perché tanto non retrocedono perché sotto la lega d non c'è nulla è solo una questione di onore bene 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 andiamo al gruppo 2 della della lega d che vede il lussemburgo a 9 la bielorussia a 8 la moldavia a 5 e il povero san marino come al solito a 0 quindi sulla carta sono ancora tutte in gioco anche la stessa moldavia perché comunque la moldavia deve giocare contro san marino fuori casa quindi tre punti quasi assicurati e andare a 8 a sua volta e poi si giocherebbe in casa con il lussemburgo la possibilità di sorpassarlo certo c'è lussemburgo bielorussia se lussemburgo batte la bielorussia chiude praticamente i conti quindi lussemburgo è nelle sue mani la moldavia è nelle sue mani se batte lussemburgo e se batte san marino e la bielorussia a sua volta è nelle sue mani ma deve andare a vincere in lussemburgo perché poi vabbè con san marino dovrebbe avere problemi diciamo che sulla carta la in lussemburgo se la gioca ma le altre sono tutte lì vicino quindi aspetterei a dare un giudizio finale perché qua è anche questo tutto in divenire veniamo al gruppo 3 di lega c che vede il kosovo al primo posto con otto punti l'azerbaijan con 6 le isole faroer con 4 e malta ahimè con 2 ci sono ancora da giocare azerbaijan isole faroer malta kosovo kosovo azerbaijan e malta isole faroer quindi praticamente il kosovo deve giocare solo una partita e deve cercare di arrivare a 11 per scappare da azerbaijan che però a sua volta se dovesse battere sia le isole faroer che appunto il kosovo kosovo azerbaijan potrebbe essere la partita basilare che dà la chiusura della questione perché attenzione l'azerbaijan è a 6 e se batte le isole faroer va a 9 quindi sorpassa praticamente il kosovo a quel punto il kosovo dovrebbe essere costretto a battere l'azerbaijan perché se pareggiano l'azerbaijan se ne sta bello fresco a 10 e passano il girone quindi anche questo è tutto ancora in divenire per il primo posto naturalmente perché nella lega d non c'è retrocessione l'ultimo gruppo è il gruppo 4 con macedonia gibilterra armenia e l'ikstain armenia che nelle ultime due partite le ha vinte tutte e due incredibile ma vero e quindi abbiamo l'ikstain macedonia allora intanto vediamo la classifica che vede la macedonia a 9 anche se l'ultima la persa malamente 4 a 0 gibilterra a 6 armenia a 6 e l'ikstain a 3 la macedonia potrebbe chiudere i conti andando a vincere con il l'ikstain il 16 di novembre e a quel punto gibilterra e armenia servirebbe solo ed esclusivamente a permettere a una delle due di andare poi a giocarsi sulla carta l'armenia perché andrà a giocare in l'ikstain il 20 di novembre e si giocherà al primo posto se pareggiano credo che il discorso sia chiuso perché non penso che il attenzione però perché è la macedonia che ha 9 e la macedonia gioca una sola partita con appunto con il l'ikstain quindi se va a 12 penso che sia quasi irraggiungibile però attenzione perché se l'armenia batte gibilterra poi va a 9 a sua volta e andrebbe in l'ikstain a giocarsi il primo posto viceversa se gibilterra dovesse battere l'armenia dovrà sperare che l'armenia comunque batta l'ikstain perché se no è abbastanza inutile dando per scontato che il l'ikstain si mangi la macedonia perché se no se la macedonia vince con l'ikstain va già a 12 e poi gli basterebbe pareggiare con l'armenia comunque non è ancora nulla è scontato neanche in questo girone vedremo chi chi la spunterà pensavo di trovare già delle delle risposte invece l'unico risponso è quello dell'ucraina che è sicura del primo posto gli altri sono ancora tutti da da giocare da decidere ci sarà ancora da divertirsi però temo che già al 15 16 nelle prime partite si chiudano già i discorsi ma staremo a vedere io ho parlato anche troppo fatemi sapere cosa ne pensate chi pensate che possa passare io per ora non mi sbilancio perché qua è tutto un po più rebelot come si suol dire ciao